Ciao, benvenuti in uno spazio Mio Podcasting Questa è la stagione 2 In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto Mio Podcasting, un contenuto August 29 A cadenza mensile Cazzarola, e poi c'ho anche il microfono Mio